Rudy ritrova soltanto un giocatore che era nato in passato, però un certo Anghissa che con te aveva fatto ottime cose. Sei contento, quanto è importante per te trovare Anghissa in rosa? Poi vorrei fare una domanda anche su Rudy al Presidente, grazie. Frank Zambonghissa, sì, l'ho fatto esordire io a Marsilia, quindi lo conosco bene. C'è un po' il mio piccolo, anche se è una montagna fisicamente e sono molto contento di ritrovarlo. Lui ha fatto veramente un salto di qualità da quando è uscito da Marsilia, perché era molto giovane. L'ultima partita che abbiamo fatto insieme, penso che è la finale d'Europa League contro l'Atletico Madrid, però è andato in Inghilterra, è andato in Spagna e adesso con questa stagione dove ha dimostrato di essere un uomo molto importante, non solo sul campo ma anche nello spogliatoio, ha preso... C'è uno di voi che ha detto che fa forse sette anni che sono partito da qua e lui l'ho lasciato forse almeno da cinque. E quindi è un altro Frank, però sono contento di ritrovarlo. Lui sa che sarò ancora forse più esigente con lui, visto che lo conosco bene, e che anche lui può ancora migliorare. Però è un bel piacere ritrovarlo, sì.